musica 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 e benvenuti a tutti in questa nuova puntata di 7 days to die sempre in multiplayer sempre con Rocky bello io me ne devo andare subito da qua perchè mi ho rotto le palle perchè questo viene nei due secondi e non mi lascia tranquillo a sistemare le cose questa stronza deve morire male mi ho rotto le palle ho capito che deve essere difficile ma non ti fa capire un cazzo così si io non so quanto cazzo di ganga dove cavo sta dimmi che c'è qualche scuola non c'è mai niente forse quello sta lì fuori io posso tornare dal negoziante e vado direttamente dove sta là forse posso sopravvivere 10 ho aumentato la vita di un punto mamma mia non cazzo non cazzo nooo ma è dura è dura essere a me porca miseria ma si è rotto qua ah meno male che la posso riparare devo raggiungere la moto raggiungo la moto e sono salvo la moto lascia mele nella cassa poi le prendo io si ho detto te le ho messe questa soldi è teso perchè qua l'ho dato i soldi è teso ok me l'hai già detto questo casino dolce casino ma che cacchio si lamenta sempre adesso ti curo stronzo l'unica cosa che non c'ho è è la brazione solo quella non c'ho questo usa è una cosa curata il braccio a rocco si sta per riparare ok 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 non la puoi usare ok infezione prendiamo la pillola stanchezza stanchezza oh ha curato pure la stanchezza bevi l'acqua ok e sta arrivando quella lì oh ma è una cosa ma sta sempre è a grigare eh si perchè non l'ho visto dove è venuta non si vede niente i furi entra vedo pure gli stroggi sta pure lo spider io sto in diciamo che mi sto riprendendo quindi è meglio che non ne esco perchè c'ho ancora 36 non so come ho fatto a soprapplicare insomma qui stanno crescendo i mirtili buono ah no sono alto ma sono fatto spaventare oh è venuto un altro che è morto di scurdo 35 allora 1,2,9,7 per ora possiamo un po' sopperire alla mancanza di di cross out con i cibi in scatola perchè ci sono un bel po' di cibi in scatola adesso abbiamo 11 semi qui piantiamo tutti questi 11 semi come se non ci fosse un domani perchè è un motivo abito si può andare a trovare tuttanto rigotti di ferro li faccio perchè non si può andare avanti così mi ripropono sempre e attiviamo in crescita ah qui ci sono altri in crescita mamma mia però crescono troppo lentamente qui le cose troppo lentamente allora vediamo se riesco a cucinare qualcosa dopo lascia la forza che si spegne da solo appena finisce di fare i lingotti va bene? si io non sto toccando la forza quindi è una cosa inutile per me è ma lontano anche con la strada in ogni due secondi ma non ti fa fare niente ti fa mettere cos'è apposta e poi viene il bene è un cesso ambulante ma devo farei apposta perchè sennò qua non riesco da andare avanti perché non gli sfugge sempre la grandissima stronza vediamo cos'è che posso potrei rucinare rucinare no no di carne solo vabbè quelle cose cavolo è possibile che non riusciamo a trovare una cacchio di semi di patate una patata è un è un no sta qui stagione 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 che se lo trovo e poi che se quando devi piantare ripiandare per me ne arriva radici per la torta eh ma ho capito ma cioè ma è una cosa incredibile ah sono io dove andato che stanno le patate coltivate ah lo so nella neve no nemmeno sono in altra parte vabbè vai ma la prima cosa che fa dovrebbero stare non ti garantisco niente però i foghi mi sa che stanno che lampo ha fatto qui stanno tutto tutte le cose a loro sta in corsa c'è l'appetito c'è la cura c'è il fuoco acceso c'è le pillole l'infezione che si sta curando la sedia l'intestino che ha 11 minuti di attività che non romperà le balle e poi due minuti e venti con l'osso rotto ma con i bike se metti sotto le galline con i peghi muoiono le devi trovare ma io ma non l'ho fatta qua cioè l'ho fatto come dice che pur quanto si trova molto li posso stare sopra e non muore però l'uomo è morto la zuppa allo sham allora da adesso in poi nuovo ordine generale anzi nuovo ordine mondiale come dice Niga le scatolette di sham non si mangiano più pasticcio del pasticcio ahia chi è? oh sono cresciuti da questi mirtilli e magari questi mirtilli da questi mirtilli c'è 28 mirtilli con 5 mirtilli 5 piante che ho colpito sono usciti 28 mirtilli ma vabbè dai i suoi i suoi sono usciti i suoi non li vanno i suoi i suoi i suoi i suoi i suoi Qua sono le pomade. Scusa, le pomade da dove si fanno? Dalla pietra. Allora da queste io faccio la farina di mais. Qui c'è un po' tutto, porca miseria, devo ricordarti di non correre. Almeno per... Ah no, hai finito il tempo, va, ora posso fare il cacchio del comodo mio. Vabbè dai, già nella cosca l'abbiamo trovato, due patate. Non c'è stagnante qui. Seguo il consiglio, ho scorto due bill. Ah, non voglio rischiare che succeda di nuovo. Pum. Andano lì voi trovi sempre esempio di patate. Oh, che ti servono, mangi un po' il cavo. E' palo questa cosa. E' palo questa cosa, non sopra. E' bende, ho visto che ce n'abbiamo aiuto, a verità. Ok. 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 Ok, ok. 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 che cavolo però due di carne è assai trovato allora forse posso fare altre crostate sì 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 allora queste le uova mangia perché questo dirà un perescalo il grasso dov'è che l'hai messo? ma io volevo trovare solo una non c'è non chiedo tu oltre a due se ti fa tanto che cacchio non chiedo tanto ok sono in preparazione altre 6 crostate dai almeno così ce ne abbiamo poi due nel nella baula ecco queste 8 bottiglie di acqua come siamo a livello? ah c'ho un punto disponibile quindi andrò a miglior baratto no magnatio di wall street mi richiede livello di intelligenza 7 quindi io dovrei diventare brillante mi chiamo magari se ti immagini aggiungono i leoni qua già ci sono i leoni ah è vero è vero è vero i tigri eh vabbè l'elefante la giraffa il varano di comodo mi sento un lupo carne carne buona che sta a vedere dove cacchio sta dove sei? ok ragazzi se vi è piaciuto questa puntata mettete un mi piace e iscrivetevi un saluto da me da rokim ciao ciao ciao